E non possono mancare le mamme! In questa domenica, in numerosi paesi, si celebra la festa della mamma. Salutiamo tutte le mamme del mondo, anche quelle che non ci sono più. Un applauso alle mamme! E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci.